Visto che il mio intervento al Worldcamp Italia 2021 è stato breve e intenso e il tempo per rispondere alle domande era effettivamente poco, voglio con questo video dedicare altri minuti aggiuntivi a rispondere a quelle domande a cui non ho potuto rispondere in precedenza. Alcune sono riuscito a rispondere, però mi sembra interessante comunque aggiungere ulteriori considerazioni. Quindi partiamo dalla prima, Stefania mi chiede, non so se ho capito bene, se si aggiorna alla 5.9 un sito esistente con tema vecchio stile non cambia nulla? In pratica quello che succede è che tu continuerai a utilizzare tranquillamente il tuo sito WordPress anche se hai un tema vecchio stile, qualsiasi tema sia non ha importanza. Questo perché? Perché appunto WordPress mantiene una backward compatibility anche con le versioni vecchie di qualche anno fa e questo succederà ancora per diversi anni. Quindi puoi stare tranquilla se non hai necessità, se non hai affari tuoi, se non puoi migrare a nuovo sistema, non ti preoccupare che il vecchio sistema continuerà a funzionare ancora per lungo tempo. Diego invece mi chiede, ma non abbiamo capito, chi usa un page builder tipo Divi avrà problemi? Ovviamente è lo stesso discorso del tema che ho fatto in precedenza, quindi chi sta utilizzando il sistema vecchio comunque continuerà a poterlo utilizzare ancora per diversi anni. Ovviamente per quanto riguarda i page builder diciamo che se avete la possibilità scappatene il prima possibile, se invece comunque ha un costo eccessivo effettivamente insomma valutate bene perché effettivamente insomma se i costi iniziano a diventare molto elevati non so quanto possa convenire economicamente. Vpok. Daniele mi chiede, Enea, quando pensi che FSE, il full site editing, sarà maturo abbastanza per l'adozione di massa? Qui credo di aver già risposto però comunque voglio aggiungere questo, il full site editing è in pratica Gutenberg esteso a tutto il sito, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che oggi noi già possiamo beneficiare di Gutenberg, anzi io direi che diciamo dopo tutto questo tempo Gutenberg è diventato abbastanza stabile da poterlo utilizzare senza grossi problemi. Ci sono ovviamente sempre dei fix da fare sicuramente, però insomma ha iniziato a essere utilizzabile, ecco diciamo così. Quindi praticamente se noi già possiamo utilizzare Gutenberg per andare a creare i nostri contenuti utilizzando i blocchi, possiamo anche usare il full site editing per fare la stessa cosa però a livello proprio di template del sito. Simone mi chiede, realmente non aggiornando subito uno sviluppatore WordPress rischierà di rimanere fuori mercato rispetto agli sviluppatori early adopter? Qui il discorso è un po' complesso nel senso, dipende da tanti fattori, diciamo che prima arrivi a utilizzare questo nuovo sistema, più sei avvantaggiato rispetto ad altri che invece rimangono diciamo al sistema tradizionale. Questo perché? Perché in tutte le cose insomma prima ti aggiorni, rimani informato sulle novità, prima riesci ad aggiornare il tuo pacchetto esperienze, hai proprio il vantaggio da quel punto di vista. Però per quanto riguarda, se vogliamo parlare di un vantaggio economico, di non so, di iniziare a vendere dei temi o quant'altro, un po' di tempo c'è, ecco ovviamente. Ricordiamoci però ecco che già le persone hanno cominciato a sviluppare temi blog based, quindi insomma prima si comincia, meno dolori ci sono dopo. Perché? Perché le cose da imparare sono tante, già ce ne sono tante adesso, se vogliamo cominciare fra un anno, dobbiamo accumulare anche un altro anno di nuove funzionalità che verranno aggiunte, che sono da imparare. Quindi in questo caso ecco il mio consiglio è, almeno prima si comincia a imparare, meglio è. Stefania mi chiede, cosa pensi del nuovo team creato per velocizzare il core WordPress? Questa ovviamente non è una domanda inerente allo speech che ho fatto, però comunque è un qualcosa che sto seguendo. Io penso che sia una buona cosa, proprio per il fatto che comunque il core ha delle problematiche sicuramente. Non sto a specificare nel dettaglio, perché sono comunque cose tecniche che uno sviluppatore conosce bene, e uno sviluppatore, basta semplicemente che dica che questa iniziativa è sicuramente un'ottima iniziativa, che nel tempo ovviamente non aspettiamoci qualcosa nei prossimi sei mesi, che non sono queste le tempistiche, anche perché sicuramente qui si parlerà di versioni di PHP già dalla 8 in poi. Però quello che posso dire, diciamo, mia opinione personale, io lo vedo comunque con un bel passo avanti. De Brago mi chiede, domanda, per utilizzare FSE quindi bisogna partire da un tema ad hoc? La risposta è sì, il tema ovviamente deve essere compatibile per poter abilitare il nuovo editor. Se volete fare una prova, ovviamente nello speech ho indicato alcuni link, in ogni caso comunque in descrizione vi metto tutti i link per poter scaricare i temi compatibili, ce ne sono diversi anche sperimentali che potete provare tranquillamente, e ovviamente questi temi devono avere alcune caratteristiche fondamentali per poter attivare le nuove funzionalità. Per esempio dalla 5.8 il tema, se vogliamo attivare le nuove funzionalità, deve avere il file team.json, di cui comunque ho fatto anche un video, sempre qui sul canale, dove spiego come funziona questo file. Questo file ci dà già dalla 5.8 la possibilità di attivare il template editor. Per quanto riguarda invece tutta la funzionalità del full site editor, che sarà introdotta nella versione 5.9 di WordPress, allora in quel caso lì dovremo avere all'interno del nostro tema almeno un singolo file index.html nella cartella block templates. In ogni caso per questi argomenti comunque ho intenzione di fare anche un corso qua su YouTube, sul mio canale, in modo da spiegare come iniziare a creare temi che siano block-based ed eventualmente aggiungo comunque anche delle informazioni per quanto riguarda i temi, diciamo quelli alla vecchia maniera che può sempre essere utile. Paolo mi chiede Ciao Enea, dici che il PHP verrà mantenuto ancora? Sinceramente forse probabilmente c'è stato un problema di battitura, comunque mi chiede praticamente se PHP verrà comunque utilizzato ancora in futuro. Ovviamente è sì, solo perché al momento è stato scelto di utilizzare HTML per creare i file template, questo non vuol dire che non avremo più bisogno di PHP, anzi il core di WordPress è scritto in PHP e PHP sarà praticamente sempre utilizzato da WordPress stesso. Possiamo anche utilizzare nei temi perché il file functions.php ovviamente quello dovrà sempre essere presente. Poi se abbiamo bisogno di aggiungere funzionalità specifico particolari per il nostro tema in PHP ovviamente avremo bisogno di PHP, quindi per questo non ci sono problemi, anzi, anche perché se dovessimo farlo solo in JavaScript sinceramente cambierei CMS, non sto scherzando, però insomma diciamo che non sono un gran amante di JavaScript. Domenico mi chiede, adesso la domanda non l'ho ben capita, se già si utilizza Gutenberg e i blocchi per creare l'intero sito? Adesso eventualmente scrivimi qua nei commenti che provo a rispondere meglio, però da quello che posso capire è sì, ovviamente verranno utilizzati i blocchi, quelli che esistono attualmente all'interno del core di WordPress, da poter utilizzare appunto nel nuovo editor, che è praticamente Gutenberg con la possibilità di modificare la header del sito, la sidebar, se ce ne abbiamo una, il footer o altri elementi. Quindi possiamo sempre utilizzare il sistema a blocchi, anzi utilizzeremo solo il sistema a blocchi e utilizzeremo anche dei blocchi nuovi che sono stati introdotti e che verranno introdotti anche in futuro, sempre per quanto riguarda le componenti di layout che normalmente dovevamo inserire tramite PHP. Ovviamente la discussione è continuata anche sul canale Slack dedicato al WordCamp Italia. Questa in particolare che adesso andrò a leggere, mi sembrava utile aggiungerla al video perché comunque, anche se ne ho parlato in precedenza e in altre risposte, però la ritengo importante per mettere bene in chiaro le cose e quello che penso sia da fare per, diciamo, da qui in poi. Andrea mi chiede, devo iniziare un progetto a brevissimo e non avevo considerato FSE. Secondo te FSE è una funzionalità nice to have o un must have? Dal mio punto di vista ormai siamo arrivati al punto in cui iniziare a creare progetti sfruttando appunto queste nuove funzionalità sono un must have. Non si può più pensare di andare a creare progetti utilizzando il vecchio sistema, quindi utilizzando appunto tutto quello che abbiamo fatto finora. Da adesso in poi, ormai, bisogna iniziare a utilizzare le nuove funzionalità, quindi iniziare a creare i temi che siano già block-based, che abbiano già integrato tutte le caratteristiche che hanno le nuove tipologie di template e anche per quanto riguarda tutti i vecchi sistemi, come ho detto prima, ovviamente i temi costruiti alla vecchia maniera continueranno a funzionare, ovvio. Chi volesse continuare a creare temi alla vecchia maniera può ancora farlo ancora per un po', ma io lo sconsiglio anche per una questione economica, perché? Perché se noi già iniziamo adesso a costruire appunto i temi utilizzando il nuovo sistema, molto probabilmente fra qualche mese, un anno o due, non dovremmo rifare il lavoro per migrare al nuovo sistema. Quindi prima iniziamo, meglio è. Anche per quanto riguarda i page builder che sono stati utilizzati finora, ormai non c'è neanche più motivo di utilizzarli, quindi potete tranquillamente abbandonare tutto e cominciare con il nuovo sistema. Ovviamente se stiamo parlando di un progetto da costruire da zero, se stiamo parlando invece di un progetto che avete già iniziato a costruire in un certo modo, se avete la possibilità di migrare, fatelo, se no valutate comunque sempre la spesa. E con questa ultima domanda concludo il video. Se non l'avessi ancora fatto, iscriviti al canale, mi farebbe piacere appunto averti fra i miei iscritti, metti mi piace al video, ed eventualmente attiva anche la campanella, in modo da poter ricevere le notifiche ogni volta che caricherò un nuovo video, perché di questo argomento qua ne voglio parlare anche in futuro. Quindi grazie ancora per essere arrivato fino alla fine, se ci fossero altre domande i commenti qua sotto sono sempre a disposizione, posso anche eventualmente pensare di creare un'altra video risposta, nel caso ci fossero domande particolarmente interessanti, sempre su questo argomento. Grazie ancora e ci vediamo al prossimo video. Grazie. 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 Grazie.